buongiorno a tutti oggi 24 dicembre vigilia di natale giorno di festa mi sono anche messo un attimo elegante per presentare l'ultima idea regalo sotto l'albero del sommelier infatti c'è ancora tempo per i ritardatari per acquistare gli ultimi regali e oggi voglio presentarvi questo secchiello portaghiaccio questo suo glass molto particolare prodotto interamente in sughero a forma di tappo di sughero un tappo a fungo tipico delle bottiglie di champagne e di spumante molto bello da vedere molto funzionale perché di dimensioni abbastanza ridotte per inserirlo all'interno di una tavola imbandita per cui farete sicuramente un'ottima figura mettendolo al centro delle tavole e sicuramente farete felice un appassionato di vino ma non è tutto oltre la bellissima forma il materiale 100 per cento sughero c'è anche una piccola chicca infatti vedete la bottiglia rimane bella fresca e soprattutto potete andare a chiudere quindi conservare anche il ghiaccio all'interno per evitarne troppo lo scioglimento con questa capsula di metallo proprio come una bottiglia di champagne che va a chiudere questo bellissimo suo glass per cui l'idea regalo per oggi è proprio questa e sul sito internet bio sughero potete anche trovare altre idee regalo prodotte interamente in sughero e altre forme di secchiello di ghiaccio quindi questa è la mia ultima idea regalo il mio ultimo consiglio per voi oggi vigilia di natale domani finalmente potremo scartare i nostri regali e se vi va fatemi sapere se avete trovato qualcosa di interessante se avete preso spunto dai miei consigli condividendo anche foto video dei vostri amici dei vostri cari che aprono uno dei vostri pensieri per cui vi ringrazio per aver partecipato attivamente ho ricevuto tantissimi messaggi tantissime richieste tantissime curiosità spero di averle soddisfatte tutte e soprattutto di avervi dato delle ottime idee regalo intanto vi ringrazio nuovamente ma è il momento di fare un bel brindisi tutti insieme per festeggiare l'arrivo del natale per cui ci tenevo a fare un brindisi con voi stappiamo questa bella bottiglia di bollicine e mi raccomando continuate a seguirmi perché le novità non sono finite qui ma soprattutto buon natale a tutti sotto l'albero del solito viva buon natale a tutti